Prima ancora di entrare nel merito della proposta di legge economia circolare per una regione toscana a rifiuti zero, vorrei condividere con voi il metodo del Movimento 5 Stelle che prevede che la proposta di legge rimanga online per almeno 60 giorni e che tutti i cittadini iscritti al portale possano dare i loro contributi. E così è stato, ci sono arrivati 61 contributi che abbiamo analizzato uno a uno, risposto puntualmente, la maggior parte sono stati accolti e integrati nella proposta di legge, ve ne leggo uno molto interessante, una cittadina, Donella Bonciani, fa un'obiezione per l'articolo 5,4 e giustamente dice guardate che la contabilizzazione dei rifiuti basata sul volume porta stime non corrette, dobbiamo fare la contabilizzazione dei rifiuti sul peso effettivo. E in effetti è giusto, intanto è che abbiamo riscritto l'articolo 5,4 in un modo molto più stringente, prevedendo che dopo la fase transitoria di 5 anni la manifestazione dei rifiuti venga effettuata esclusivamente per peso. Questa è la dimostrazione di come è la procedura orizzontale del Movimento 5 Stelle dove prima ancora della scrittura della legge c'è stato un lungo percorso di confronto con l'audizione in quarta commissione, Enzo Favoino, Raffaele Rossi, Rossano Ercolini, tutto lo Zero Waste Alliance sono stati contattati per un contributo, è venuto Roberto Cavallo, abbiamo preso le proposte di legge delle altre regioni a 5 Stelle nonché le varie proposte di legge a livello nazionale, abbiamo fatto una grande sintesi, analizzato le migliori pratiche nel mondo e anche quello che chiede l'Europa oltre alla normativa statale e insieme a questi contributi siamo sicuri di fare una legge molto molto buona. Quindi vi invito a leggerla per scoprire nel merito la grande rivoluzione a 5 Stelle che vogliamo portare nella regione toscana nella gestione dei rifiuti, ma oggi serve ricordare anche qual è il metodo, quello che dal basso i cittadini possono contribuire nella scrittura delle proposte di legge regionali, una cosa mai vista prima d'ora.